Gli alcamesi Giovanni Pellerito e Mario Gallo hanno vinto il doppio maschile del torneo regionale ASI di Bicci Tennis Winners Cup che si è svolto a Sciacca presso lo stabilimento Balneare Aloa in località San Marco dal 29 al 31 luglio. La giovane coppia, proveniente dal lido bandiera gialla di Alcamo Marina, dopo aver dominato la fase eliminatoria a Gironi, ha prima agevolmente battuto nei quarti di finale la coppia Giuseppe Ruffo-Sergio Vaccaro, poi in semifinale, dopo un match spettacolare, ha superato con il punteggio di 9-7 la coppia formata da Mauro Zinna e Domenico Caracappa e in finale, davanti ad una bella cornice di pubblico, al termine di una partita di alto livello tecnico, ha vinto con il punteggio di 6-4-6-4 contro Gianluca Lendini e Nicola Barna. La finale di doppio misto è stata vinta dalla coppia formata da Mauro Zinna e Chiara Cirafisi, che ha battuto con il punteggio di 9-5 la coppia formata da Giuseppe Segreto e Ivana Cirafisi. Nel doppio misto sono state premiate Chiara Cirafisi come miglior giocatrice e Evelyn Di Meo come giocatrice freestyle. Il miglior giocatore del doppio maschile è stato Giovanni Pellerito, mentre il premio come giocatore freestyle è stato assegnato a Giuseppe Segreto. Soddisfazione per l'ottima riuscita del torneo durante la premiazione è stata manifestata da Mario Cucchiara, presidente del Comitato Provinciale Asi, il quale ha ringraziato i fratelli Silvio e Vincenzo Fazio, titolari dello stabilimento Aloha, che hanno allestito un campo permanente che permette ai tanti appassionati di bici tennis un allenamento costante e una crescita di questa affascinante disciplina. Cucchiara ha poi dato appuntamento per il 5, 6 e 7 agosto allo stabilimento balneare Mojito di Contra da Foggia, dove è prevista la terza edizione del Mojito Bici Tennis Cup, riservato ai ragazzi under 16, under 12 e doppi amatori.